Quella di San Matteo non è una festa o una sagra qualunque, va oltre e non solo per la sua longevità o perché sia conosciuta per l'ottimo livello delle specialità gastronomiche. È speciale perché è legata al territorio e perché comprende iniziative a carattere culturale, sportivo e didattico, dando spazio a tutte le generazioni, come dimostra la serata inaugurale, dedicata ai giovani con la presenza di una rock band e un DJ alla console, accontenta gli amanti poi del latino americano, gli appassionati del liscio, giovani e meno giovani anche per la consueta gara di petanche, qui si sono iscritti ben 87 giocatori. Insomma un programma che ha soddisfatto tutti i gusti. Tra i momenti più significativi il concorso Aspetti naturalistici e ambientali di San Matteo e Molino del Fico, qui hanno preso parte con i loro elaborati i ragazzi e i bambini di sei classi degli istituti scolastici del comprensorio. Le serate di maggior affluenza sono state quelle di sabato 12 e sabato 19, ma da incorniciare anche la giornata finale dedicata ai festeggiamenti del patrono San Matteo. Una giornata iniziata con la messa e la processione, ufficiate da Don Renato Elina, qui hanno preso parte anche il sindaco Valerio Urso e rappresentanti dell'amministrazione comunale di San Bartolomeo e proseguita con l'apprezzato concerto della compagnia corale Sacco di Ceriana, per poi terminare con la musica e l'allegria dell'orchestra di una scatenata Franca Lai. Grazie. 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 Grazie.